Trieste che ha giocato contro una squadra che ha meritato di vincere, credo sia più importante valutare una prestazione. E' come Trieste a Forguino, che era stata avanti per 43 minuti su 45. Infatti, Casale è stata molto più brava che è riuscita a terminare il lavoro vincendo una partita meritatamente, questo va dato onore e merito. Penso che la percentuale che hanno avuto da tre sia già una buona dimostrazione della qualità con cui hanno giocato. Sapevamo che era una squadra che arrivava a Trieste in piena fiducia in tutti i suoi giocatori e questa performance al tiro da tre credo sia una dimostrazione di quello che non c'eravamo prima della partita. Abbiamo fatto la solita nostra difesa su pick and roll, non abbiamo fatto un round doppio. E ribadisco, la squadra di Casale ha tutti i giocatori nel loro quintetto che possono aprirsi e tirare da tre. Quindi non hanno Martinoni che è il loro centro che tira da tre. Cutolo che giocava al numero quattro che ha tirato benissimo da tre, Casini che tira da tre, Amato che tira da tre, i due americani che tirano da tre. Quindi la difficoltà sta in questo, che non avevano solo un giocatore capace di determinare questa situazione tecnica. Avevano molti giocatori, quindi di conseguenza bravi loro, ribadisco, a trovare sempre con un passaggio in più l'uomo libero. E bravi per assegnarli poi quei tiri. Loro sono stati bravi a segnare. Grazie. 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 Grazie.